Cari amici e amiche, benvenuti al nostro canale. Oggi abbiamo un video molto speciale in serbo per voi, ma prima di immergerci nel racconto emozionale che abbiamo preparato, vorremmo chiedervi un piccolo favore. Se siete nuovi qui o se vi siete imbattuti casualmente in questo video, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale. La vostra iscrizione è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e ci permette di creare contenuti sempre migliori per voi. Sarà un piccolo gesto che avrà un impatto enorme, proprio come la perseveranza, la dedizione e la determinazione che vedrete nel racconto che sta per iniziare. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel mondo di Ken e Hiro nel tranquillo villaggio di Sakura. Questa è una storia di saggezza Zen, di forza interiore e di insegnamenti preziosi. Speriamo che vi ispirerà e vi porterà a riflettere su come potete coltivare queste virtù nella vostra vita. Nel tranquillo villaggio di Sakura, situato ai piedi di una maestosa montagna, viveva un giovane pescatore di nome Ken. La sua vita era una testimonianza vivente della filosofia Zen, poiché Ken incarnava la perseveranza, la dedizione e la determinazione in ogni aspetto della sua esistenza. Fin da giovane, Ken aveva imparato dall'anziano maestro Zen del villaggio, Maiko, l'importanza di coltivare queste qualità. Maiko aveva dedicato la sua vita a insegnare agli abitanti di Sakura come trovare la forza interiore attraverso la mente calma e la concentrazione. La lezione più preziosa che aveva impartito a Ken era che la forza derivava dalla perseveranza, dalla dedizione e dalla determinazione. Ken era noto per la sua abilità nel pescare. Ogni mattina, prima dell'alba, si svegliava e si dirigeva silenziosamente verso il fiume che scorreva accanto al villaggio. Armato di una canna da pesca fatta a mano e di una rete di bambù, trascorreva ore pazientemente ad attendere che i pesci abbocassero. La sua perseveranza era incrollabile, anche quando le giornate erano difficili e i pesci sembravano sfuggirgli. Un giorno, mentre era seduto sulla riva del fiume, Ken vide un gruppo di bambini che giocavano lungo la riva. Si avvicinò loro e disse, ricordate, ragazzi, che la forza deriva dalla perseveranza. Se volete raggiungere qualcosa nella vita, dovete dedicarvi completamente e avere la determinazione di non arrendervi mai. I bambini ascoltarono attentamente le parole di Ken e annuirono con il loro entusiasmo giovanile. Ken sorrise e si allontanò per tornare alla sua pesca. Negli anni seguenti, Ken applicò la stessa filosofia zen alla sua vita quotidiana. Quando affrontò difficoltà o sfide, ricordò sempre le parole di Maiko e con perseveranza, dedizione e determinazione superò ogni ostacolo che si presentò. Un giorno, mentre era sul fiume, Ken sentì un improvviso tirare alla sua lenza. Era una lotta titanica, ma Ken non si arrese. Lottò con tutte le sue forze, dimostrando una determinazione incrollabile. Alla fine, riuscì a tirare fuori dall'acqua un pesce enorme, il più grande che avesse mai visto. Era un momento di grande gioia per Ken, che aveva dimostrato il potere della perseveranza e della determinazione. Il suo nome si diffuse in tutto il villaggio e oltre, diventando un esempio vivente della filosofia zen. Ken continuò a pescare, ma ora lo faceva anche per insegnare agli altri le lezioni che aveva imparato lungo il suo cammino. La storia di Ken di Sakura dimostra che la forza non è solo una questione di muscoli, ma di spirito. La sua perseveranza, dedizione e determinazione lo avevano reso un uomo straordinario, un maestro zen nel vero senso della parola. E così, nel tranquillo villaggio di Sakura, la saggezza zen si tramandò di generazione in generazione, grazie a Ken e alla sua straordinaria vita. Con il passare degli anni, Ken divenne un mentore apprezzato nel suo villaggio, aiutando i giovani a coltivare non solo abilità pratiche, ma anche la saggezza interiore. Ogni sera, riuniva i bambini sotto un grande ciliegio in fiore nel cuore del villaggio, dove raccontava storie di avventure, virtù e filosofia zen. Una sera, durante uno di questi incontri, un giovane ragazzo di nome Hiro si avvicinò a Ken. Hiro era cresciuto ascoltando le storie e le lezioni di Ken, e ora aveva una domanda importante. Maestro Ken, disse Hiro con rispetto, ho sempre ammirato la tua perseveranza e la tua determinazione. Vorrei imparare da te come sviluppare queste qualità in me stesso. Ken sorrise e annui. La perseveranza, la dedizione e la determinazione sono come il fuoco in un cuore, disse. Devi coltivarle costantemente, proprio come coltiviamo un giardino. La perseveranza viene dalla volontà di non arrendersi mai, anche quando le sfide sembrano insormontabili. La dedizione deriva dalla passione e dall'amore per ciò che fai, mentre la determinazione è la fiamma che ti spinge sempre avanti. Ken invitò Hiro a seguirlo lungo il fiume la mattina successiva per una lezione pratica. Mentre pescavano insieme, Ken mostrò a Hiro come ascoltare il suono dell'acqua, come osservare le onde e come concentrarsi sulla sua canna da pesca. Gli insegnò che la pesca era una metafora per la vita stessa, richiedeva pazienza, attenzione e una mente calma. Nel corso dei mesi successivi, Hiro trascorse molte ore con Ken imparando queste preziose lezioni. Ogni giorno, aumentava la sua perseveranza, la sua dedizione e la sua determinazione. Un giorno, mentre Hiro era sul fiume da solo, si rese conto di quanto fosse cresciuto interiormente. Una tempesta improvvisa si scatenò, mettendo alla prova le abilità di Hiro. Mentre lottava contro le onde tumultuose, le parole di Ken risuonarono nella sua mente. Con una calma impressionante, Hiro superò la tempesta e ritornò a riva con il suo pesce. Era un momento di grande orgoglio per lui, ma sapeva che doveva la sua vittoria alla saggezza di Ken. Da quel giorno, Hiro divenne un pescatore esperto e un maestro zen a sua volta. Continuò a tramandare le lezioni di Ken, e il villaggio di Sakura prosperò non solo per le sue abbondanti risorse, ma anche per la forza interiore dei suoi abitanti. La storia di Ken Hiro dimostra che la forza interiore può essere coltivata attraverso la perseveranza, la dedizione e la determinazione. Queste virtù non solo aiutano a superare le sfide esterne, ma illuminano anche il cammino della vita interiore. Nel tranquillo villaggio di Sakura, la filosofia zen continuò a brillare come una luce costante, guidando le generazioni future verso la saggezza e la forza. E così, cari amici e amiche, si conclude la straordinaria storia di Ken e Hiro nel tranquillo villaggio di Sakura. Speriamo che questa storia abbia toccato il vostro cuore e che abbiate trovato ispirazione nelle lezioni di perseveranza, dedizione e determinazione che abbiamo condiviso. Vi invitiamo a riflettere su come potete applicare queste preziose virtù nella vostra vita quotidiana, proprio come Ken e Hiro hanno fatto. La forza interiore è alla portata di tutti noi, e attraverso il costante impegno possiamo raggiungere risultati straordinari. Ora, prima di concludere, vi chiediamo gentilmente di supportare il nostro canale. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, lasciate un like se avete apprezzato il video, condividetelo con i vostri amici e familiari e lasciateci un commento con le vostre riflessioni sulla storia di oggi. La vostra partecipazione è fondamentale per il nostro canale, e ogni gesto conta. Grazie di cuore per averci seguito e per essere parte della nostra community. Continueremo a portarvi contenuti che speriamo vi ispireranno e vi intratterranno. A presto, e ricordate sempre, la forza deriva dalla perseveranza, dalla dedizione e dalla determinazione.